Un bonus vacanze a patto di scegliere un luogo di villeggiatura in Italia è una delle novità previste dal decreto rilancio per aiutare l'economia a rialzarsi dopo l'emergenza covid-19. L'agevolazione scatterà dal primo luglio ed è rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre è destinata al pagamento di servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed and breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, 300 se il nucleo è composto da due persone e 150 euro per i single. Quest'anno andrete in vacanza? Speriamo di sì. Avete già pensato la destinazione? Ce n'abbiamo una a retrate che non ci ha fatto partire il mese di marzo quindi a Tenerife perché in Italia non c'è possibilità. Quindi niente bonus vacanze si va all'estero? È tutta una farsa il bonus vacanze abbiamo sentito già l'agenzia. Buongiorno di dove? Sempre di Ferrara. Come mai qua a Fano? Perché si sta bene, c'è un difetto che la gente qui ingrassa, si mangia troppo bene. Non è la prima volta che viene qua? Sono già quattro anni che vengo qui e ci starei anche negli anni futuri, bisogna vedere un pochino le cose come vanno. Ha utilizzato il buono vacanze? No, è stata fatta la richiesta giusta, perfetta, nulla da dire, però è inutile stare lì a chiedere delle cose che altri potrebbero usufruirne. Per richiedere il bonus bisogna scaricare io, l'applicazione alla quale si accede con Speed, il sistema pubblico di identità digitale o carta di identità elettronica che a sua volta genera un codice, il cosiddetto QR code, da presentare alle strutture ricettive. Quest'anno si farà la vacanza signora? Io non la faccio la vacanza, no. Rimani in città? Sì. Come mai? Perché ho paura. Ancora non si rispettano le norme? Sì, le norme. È una toccata all'altra, quando si cammina, quando... Quindi ancora c'è un po' di preoccupazione e si preferisce rimanere nella propria città? Sì. Quest'anno andrete in vacanza? No. Niente vacanza. Invece andrà in vacanza? No, no. Questa è la mia vacanza, è qui sotto. Sono nato qui e rimango qui. Siete di Fano? No, siete in vacanza. Perfetto, di dove? Noi veniamo da Parma. Da Parma? Sì. Avete scelto la città di Fano per quale motivo? Perché ce l'hanno indicata degli amici che vengono tutti gli anni qua. Avete usufruito del buono vacanze? No, no, no. No? No. Un po' troppo complicato il procedimento? Sì, sì. L'abbiamo, diciamo, lasciato perdere perché magari non siamo ben informati, abbiamo fatto tutto di fretta, perché di solito le nostre vacanze non sono quelle di giugno ma sono ad agosto. Quindi è stata una cosa così, diciamo, molto affrettata. Il bonus, che potrà essere usato fino al 31 dicembre, dovrà essere speso in un'unica soluzione. A Fano gli alberghi vanno in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Circa il 70% aderisce all'iniziativa. Noi lo accetteremo volentieri. Tutti gli operatori accetterebbero. L'importante è di avere questo scambio con le banche, di presentare il buono vacanze e cambiarlo in denaro liquido. Noi abbiamo degli istituti di credito che ci accettano questo buono vacanze, naturalmente pagando le piccole commissioni. Noi siamo tutti favorevoli a questa cosa. I vari turisti vi stanno chiedendo informazioni sul bonus? Sì, naturalmente. Non è che tantissimi, perché tu sai che la prassi per avere questo buono vacanze deve essere l'ISEE, tutti questi calcoli che devono fare. Però io sono contentissimo che la gente, chi può, faccia le vacanze. Perché con tutto quello che abbiamo passato in Italia abbiamo bisogno di vacanze. Avete prenotato qualche vacanza? Più o meno sì. Diciamo che quest'anno abbiamo prenotato 3 o 4 giorni da amici sui Monti Sibillini. Basta, ma lì. Più in là e in se va. Avete sentito di questo bonus vacanze? Lo utilizzerete oppure no? No, lo utilizzeremo perché utilizziamo la casa di questi nostri amici sui Sibillini, senza fare tante domande, tante così. In generale che cosa ne pensate di questa opportunità che il governo dà agli italiani? Mi sembra un'ottima cosa, anche perché siccome there is no trip for cats, come dicono gli inglesi, che non c'è trippa per gatti, avere una possibilità in più di avere qualche soldino da spendere comunque in meritate vacanze. E in Italia soprattutto? In Italia soprattutto, anche perché diciamo che se gli stranieri vengono a vedere l'Italia e ne sono contenti, non vedo perché noi italiani ci dovrebbe fare schifo il nostro bellissimo paese.